buongiorno a tutti oggi mi trovo a massagno e vi sto per mostrare questo quattro locali e mezzo mi trovo al quarto piano di una palazzina con un totale punto di quattro piani alla superficie intera dell'appartamento di 120 metri quadrati all'entrata abbiamo subito un comodo armadio attreante da questa parte si sviluppa tutto il soggiorno soggiorno con due belle vetrate con l'uscita anche sul balcone soggiorno di 30 metri quadrati sulla sinistra abbiamo il primo dei due bagni bc ospiti con specchiera lavabo e bc proseguendo abbiamo l'intera parete della cucina cucina ampia dove eventualmente vicino a questa parete si può appunto installare un comodo tavolino cucina composta da frigorifero con dentro vaschetta congelatore abbiamo lavastoviglie piano cottura in vetro ceramica e il forno ad recalda ventilata allora sia da soggiorno che dalla cucina usciamo su questo balcone di circa 8 metri quadrati con appunto una bellissima vista sul verde e sulle montagne ci troviamo a massagno posizione comoda per chi per esempio utilizza i mezzi trasporto per chi lavora in centro magari utilizza il treno visto che nelle vicinanze appunto vi è anche la stazione soggiorno che abbiamo visto quando siamo entrati proseguendo dal corridoio abbiamo le alla zona notte quindi le tre camere prima camera di circa 14 metri quadrati seconda camera singola di circa 12 metri quadrati come pavimentazione nelle camere abbiamo il parquet mentre nel corridoio come nella cucina abbiamo appunto nel corridoio questo marmo mentre nella cucina delle piastrelle ingress porcelanato proseguendo abbiamo la camera matrimoniale spaziosa di 15 metri quadrati e l'uscita sul balcone abitabile di 8 metri quadrati e questa è la vista a disposizione d'appartamento vi sono dei parcheggi in box privati oppure parcheggi esterni e la possibilità appunto di avere una cantina privata in ultimo abbiamo il bagno che serve le camere composto da bidet da questa parte lavabo con sopra specchiera con contenitore bc e la vasca allora se volete visionare questo quattro mezzo locali a massagno contattateci ti affitto